La farmacia come punto di riferimento sanitario per la collettività nel segno dell'offerta gratuita di alcuni servizi importanti. È lo spirito con cui nasce Farmacia dei Servizi, progetto nato dalla lungimiranza del Comune e di Chieti Solidale SRL preseduta da Pierluigi Baglietti che gestisce le tre municipalizzate della città e che in generale opera nel settore dell'erogazione di servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi in favore di famiglie e individui in condizioni di fragilità e bisogno. Sull'iniziativa e sui tipi di servizi offerti sentiamo la dottoressa Valentina Durbano. Ci sono ben due attività che sono rivolte al territorio e ai cittadini che sono lo screening del tumore colon retto e l'aderenza alla terapia nei pazienti con BPCO. Questi sono i servizi al cittadino che non prevedono elettromedicali, mentre ci sono tutta un'altra serie di servizi tipo la telemedicina, elettrocardiogrammo, alterpressorio e altercardiaco a cui il cittadino può accedere con una ricetta medica, quindi con la prescrizione del medico, una ricetta che non sia dematerializzata. Cioè una ricetta cartacea? Allora sì, la ricetta deve essere o quella classica, la classica ricetta rossa o una ricetta redatta su un ricettario del medico, quindi il ricettario classico, il foglio bianco con la cartia intestata del medico curante. Altri servizi che eroghiamo già sono i vaccini, le vaccinazioni anti-influenziali e anti-covid, molto importanti perché comunque danno una sensazione di territorialità alla farmacia di prossimità. Le tre farmacie comunali comunque da un paio d'anni hanno avuto una grande svolta perché hanno cominciato a lavorare in grandissima sinergia. C'è stato proprio un cambio di passo negli ultimi due anni che ha reso le tre farmacie comunali, un importantissimo riferimento territoriale per tutti i cittadini. Prossimi obiettivi? Si parla di spirometria, si parla di tanti altri servizi che potremo erogare noi, naturalmente aspettiamo anche le direttive della regione, stiamo aspettando ancora qualche specifica sulla screening del tumore colon retto, quindi stiamo aspettando di sapere come partire e tutto quello che verrà da gennaio in poi, noi siamo qui, siamo prontissimi, quindi appena ci daranno il via, partiremo con altro.